Ascolta devo fare le mie consegne ieri sera, porca miseria il Faro mi ha abbandonato qua, forse ci desse qualcosina all'impianto elettrico, magari... Da fuori non si vede, non è tanto... No perché va bene, si vede anche! E poi il resto? No il resto è po' L'ho rivisto la seconda sporsa e l'ho portata da Gino E magari queste piccole cose... Sì sì forse magari la spazzola... Da cambiare Aspetta un po' Sì è da cambiare La spazzola Sì 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 No per il resto, guarda L'ho portata da Gino l'altro giorno Sai che c'è la serena? Al serena Al serena Sì sì No perché anche questo effetto così di... Un po' Anticato Sì, antico Un po' vintage Bravo Sì 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 Vedi un po' il motore... Guarda è una bomba eh No no poi qua c'è... Vedi questa parte qua e tutto anche le gomme... Sai sono con questa... Michele Michele! Allora... E il mio invece Gna mi ha piantato lo sai guarda un po' Vieni... Ah da l'occhiata... Ah pure nel... Ho un problema col mio di camion... Mi dicono che l'hai esperto venga qua... Guarda il problema... Il mio camion mi ha piantato, non so cosa... Ah, che problema può essere? Prego, 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 guardi dentro come mi ha piantato il mio camion. Ma vedi, sì. Problema serio, Ignazio, tu che dici? Sì, sì. Un diserbante quasi. No, lui riesce un attimo subito a capire... Ti pianta spesso, no? Sì, sì, una volta si pianta. Si pianta. Si pianta. Vabbè, senti, per domani poveriggio ce la fai tutte e due? Ma c'è, perché ci vuole. PARTITI PARTITI Sì! Ciao, Agnes. Ascolta. Sai che c'è il ferro che non funziona? Dagli un'occhiatina, perché... Sì, sì. Ah, ma stanza posto.